Finisce 3-3 l'andata della finale play-off di Serie A2 maschile di tennis tra il Circolo Le Rocce di Mascali e il CT Massa Lombarda. La formazione del presidente Rosario Sciacca infatti ottiene un pareggio importante al termine di un match incredibile. La giornata comincia subito in salita. Il giovane Gianandria Costanzo cede allo sloveno Enei Bonin, mentre Marco Di Prima si deve arrendere al promettente under classe 97 Julian Ocleppo, predestinato figlio d'arte di Giovanni Ocleppo, già trentesimo al mondo nel 1979, e tra i primi 50 fino al 1984. Il momento decisivo avviene con Gianluca Naso e Gabriel Truio Soler, che prima di conquistare al terzo setti i punti necessari a riequilibrare l'incontro, dovranno interrompere diverse volte le loro rispettive sfide per improvvisi acquazzoni fuori programma. Naso supera Stefano Travaglia, mentre Truio Soler ha la meglio sull'italo argentino Patricio Eras. Ai doppi di Prima Costanzo perdono senza sfigurare contro la coppia Bonin e Eras, mentre Truio e Naso si impongono alla grande suo Cleppo Travaglia. Decisivo sarà quindi il ritorno in terra emiliana di domenica prossima, in cui si deciderà la promozione nella massima serie.